Oggi voglio parlare del tipo 1, il perfezionista, portandovi un caso pratico. Quindi, cosa succede quando l'1 vive con una personalità sdoppiata e perché succede questo e come si può, diciamo, risolvere questa situazione a suo favore e vivere una vita più equilibrata. Il perfezionista tipo 1 non sopporta le critiche e quindi fa di tutto per migliorarsi, per raggiungere un canone di perfezione, per non essere criticato soprattutto da se stesso perché in realtà il suo critico più severo è proprio se stesso. Quindi, alcuni perfezionisti, tra cui una persona che proprio mi ha chiesto un consiglio, quindi alcuni perfezionisti ad un certo punto sfociano, diciamo, in una personalità sdoppiata. Perché? Cosa succede? Immaginate una casa con due piani. Al piano superiore vive il critico, quindi questo critico sempre giudicante che giudica inaccettabili le emozioni, soprattutto emozioni negative come la rabbia e tutti, diciamo, i desideri o comunque le emozioni che non si conciliano con l'immagine di perfezione che la persona vuole raggiungere in cantina. Quindi si accumulano invece queste emozioni, si accumula magari la rabbia e si accumulano tutte le emozioni e le tensioni che derivano dai desideri, diciamo, non accettati, non soddisfatti e quindi messi in cantina. Quindi questa grossa tensione tra queste due parti a un certo punto a cosa porta? Porta che questa cantina arriva a contenere troppe emozioni, troppe cose che a un certo punto esplodono. E allora qui si crea la personalità sdoppiata. Quindi la persona che mi chiede il consiglio è una persona che nella vita quotidiana, diciamo, nell'ambiente lavorativo e familiare, l'ambiente dove, diciamo, tutti lo conoscono per la persona irreprensibile che è, appunto si presenta in questo modo. E poi invece in contesti dove non si sente giudicato, dov'è lontano dai riflettori, dov'è lontano comunque dalle persone della quotidianità, allora assume dei comportamenti completamente opposti. Proprio perché queste emozioni a un certo punto traboccano e uno non ci sta più dentro. Quindi cosa succede? Allora, una personalità è irreprensibile. L'altra personalità, qui vi faccio un esempio generico, degli ambiti in cui appunto si può arrivare a degli eccessi. La seconda personalità, quando si sente tranquilla, lontana dagli occhi degli altri, lontana dai giudizi, o comunque in un ambiente non giudicante, può eccedere nel consumo di alcol, addirittura nelle droghe, può arrivare appunto ad eccessi sessuali e ad eccessi nel cibo. Quindi possiamo arrivare a passare, diciamo, da grandi mangiate, grandi bevute, abbuffate, al consumo di droghe addirittura e ad eccessi sessuali, anche una certa dipendenza dal sesso, insomma, la ricerca comunque di situazioni forti. Questo perché a forza di reprimere, 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 mettere in cantina tutto ciò che è giudicato inaccettabile, prima o poi, la tensione è troppo forte e trova uno sfogo. Questo sfogo, quindi, spesso non è controllato perché deriva da un accumulo di tensione, quindi butto dentro, butto dentro, butto dentro, in cantina poi la cantina esplode. Quindi il consiglio per una personalità di questo tipo, quale può essere? Allora, può essere quello che non bisogna essere troppo intransigenti con se stessi, bisogna dare, diciamo, una limata al nostro critico interiore, quindi perdonare da soli i nostri sbagli e accettare che possiamo non essere perfetti. Perdonare i nostri sbagli, perché comunque l'importante è che da uno sbaglio, da un qualcosa che noi giudichiamo come sbaglio, possiamo trarre una lezione per comportarci diversamente in futuro, quindi bando ai sensi di colpa, bando ai giudizi e traiamone il meglio. Se riusciamo a perdonarci, sicuramente facciamo un grosso passo in avanti perché la severità del nostro critico si allenta ed è, per un perfezionista tipo 1, è un passo importantissimo, perché altrimenti questo critico sempre così severo, sempre così giudicante, questo critico interno ci fa stare veramente, veramente male. Quindi io direi come soluzione prima di tutto il perdono e un critico meno severo con noi stessi. Questo è un passo veramente importante. Quindi il perdono non fine a se stesso, fine anche a migliorare in futuro e fine appunto ad accettare che non si può essere perfetti. Poi in secondo luogo creare, diciamo, uno sfogo consapevole, dare sfogo alle nostre emozioni in maniera consapevole, di modo che non saranno le emozioni a prendere il sopravvento e a portarci verso eccessi che ci fanno male, magari eccessi alimentari, droghe, alcol. Quindi in questo caso noi diventiamo vittima di queste emozioni che a un certo punto traboccano dalla cantina. Ma siamo noi che consapevolmente andiamo a ricercare uno sfogo e qui mi voglio collegare ad alcuni spunti che Massimo Taramasco ci dà nei suoi video, soprattutto quando parla di personalità iperlogiche. Quindi cosa succede? In questo caso il perfezionista è un iperlogico che cerca un fortissimo controllo. Buttando in cantina le emozioni, appunto queste emozioni prima o poi scoppiano e quindi prendono il sopravvento in sfoghi che lui non controlla. Quindi un iperlogico, come dice Taramasco, ha necessità di concedersi consapevolmente una vacanza analogica, chiamiamola così. Quindi di darsi consapevolmente delle emozioni per evitare che le emozioni stesse lo trascinino in situazioni dannose, nocive, pericolose. E questa vacanza analogica può essere fare qualcosa un po' fuori dai soliti schemi. Quindi poi per ognuno si può trovare qualcosa che ci piace, che ci dà emozioni. Ci sono persone che si dedicano magari a sport un po' estremi, che danno emozioni, che vanno a scalare in montagna, che fanno il parapendio. Ci sono magari persone che possono trovare nuovi hobby. Magari io mi sento impacciato nel movimento, non ho mai ballato, mi iscrivo a un corso di ballo. Anche quella è un'emozione. Trovare comunque un qualcosa e deciderlo consapevolmente con cui darci emozioni che saranno emozioni positive, che non danneggiano la nostra salute e la nostra psiche. Quindi questo è il consiglio che posso dare a questa persona che mi chiede appunto come evitare questi eccessi dannosi che derivano dall'avere una personalità sdoppiata. Anche perché poi il perfezionista, che ha una personalità sdoppiata, vive interiormente questo conflitto tra il piano sopra della casa, tra il critico, la persona irreprensibile e invece la personalità che dà sfogo alle emozioni più basse. Quindi il consiglio è proprio questo, di trovare un modo di darsi emozioni in maniera consapevole. Questa vacanza analogica può essere davvero in base alle vostre predisposizioni, in base a quello che vi può dare piacere. Poi a volte la paura di fare qualcosa in realtà rivela il desiderio di fare qualcosa. Quindi buttarsi in qualche nuova avventura stimolante. Quando la cosa è decisa da noi, siamo noi che abbiamo comunque il controllo, siamo noi che decidiamo della nostra vita, non siamo agiti appunto dalle nostre emozioni che poi non riusciamo a controllare e diciamo ci danneggiano alla fine perché o ci danneggiano a livello di salute, a livello psicologico e ci mettiamo magari in situazioni che poi noi stessi, come dire, non approviamo perché poi il nostro critico interiore non approva e alla fine le giudica, c'è questo conflitto molto forte tra le due personalità. Quindi questo è il mio consiglio per un perfezionista che ha una personalità sdoppiata. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi anche su Instagram. Ciao a tutti!